Buongiorno, sono Robert, cittadino siriano ed abito tuttora ad Aleppo. Lavoro da qualche anno per il conto della ONG italiana AMU, Azioni per un mondo unito, e coordino con altri colleghi 12 progetti sociali in tutta la Siria. Dopo nove anni di guerra, la gente è proprio per terra e la vita economica è ferma. La situazione è peggiorata con il coronavirus, i pochi che lavoravano sono a casa. Qui manchiamo di tutto. Allora, perché è importante togliere l'embargo? È semplice, abbiamo bisogno di soldi, di finanziamenti per far ripartire le imprese di ogni tipo. Ad esempio, abbiamo bisogno di comprare o avere materie prime, macchinari, medicine, materiale sanitario, gasolio per avere la corrente elettrica. Capite che senza i fondi necessari la Siria non può ripartire e il popolo siriano diventerà sempre più povero. E nel frattempo l'embargo non cambierà sistemi politici. Dunque si tratta di umanesimo prima di tutto. e grazie a voi.